Alle faccine eri stato l'ombre del partito sia all'andata che al ritorno, in gara 3 sei stato comunque determinante per il tuo peso specifico all'interno della squadra siete in semifinale, è stata durissima, come l'hai vista? Sì, come ti ho detto l'altra volta, sbagliate a parlare noi siamo così, giochiamo, diamo tutto quello che abbiamo sempre oggi non ho fatto dei gol come l'ultima volta, ma non importa perché ci sono stati i miei compagni non che le altre volte non ci siano stati, ma anzi siamo una squadra e lo abbiamo dimostrato qua non c'è uno, c'è un altro, ci aiutiamo sempre e diamo sempre tutto quello che abbiamo oggi lo abbiamo dimostrato, è stata una partita durissima si sapeva che qua con Sarzana è sempre dura, soprattutto in questa pista però devo dire che ce la siamo cavata alla grande e sono veramente orgoglioso di quello che abbiamo fatto Avete rischiato però troppo secondo me, sul 5 a 1 un po' avete mollato avete rischiato veramente di regalare a Sarzana che ha avuto un rigore, un tiro diretto diverse occasioni, due palli, li avete presi anche voi però 5 a 1 a 4 minuti della fine avete un po' mollato Cosa ha detto Gisù Bresciani? Sarà in cavolato? Sì, è normale, è normale perché quando stai vincendo 5 a 1 devi continuare a dominare il gioco tanto è vero anche però che in questa pista non è semplice perché quando la squadra pressa in una pista piccola non è per niente semplice però alla fine siamo riusciti comunque ad uscirne e come ti ho detto siamo stati compatti come una squadra anche nel 5 contro 4 e siamo riusciti a fare un altro gol e portare a casa la partita E adesso andrete al semifinale con il forte? Sì, sabato ci sarà già gara 1 Adesso da subito inizieremo già a pensare alla semifinale e anche lì cercheremo di dare tutto quello che abbiamo perché ce lo meritiamo Ultima domanda, ma ieri quando vi si è rotto il pulma in autostrada cosa hai pensato? Qual è stato il sentore del vostro ambiente? Un po' l'abbiamo preso un po' sul ridere perché che puoi fare? L'unica cosa è quella, la colpa non è nostra però noi alla fine eravamo pronti per giocare la partita l'abbiamo giocata oggi e siamo arrivati qui consapevoli di quello che avevamo e l'abbiamo dimostrato